ed eccoci qua ed eccoci qua un palma stellare che va a vincere la Brescia 1-2 a 0 una squadra ormai matura una squadra che fa il gol non rischia quasi niente anche se bisogna vedere che in più minuti un po' aveva rischiato di prendersela nel culo però tutto sommato abbiamo meritato di vincere poteva anche finire anche con più gol e bravo i portieri della Brescia loro praticamente non hanno quasi mai tirato in porta sono stati solo pericolosi i primi 20 minuti prima del grandissimo gol di Ben Arbè e poi secondo gol di Maner la partita diciamo che si è quasi è quasi finita nel secondo tempo l'abbiamo gestita bene loro sì qualche colosso ma niente di che non l'hanno quasi mai tirato in porta è un palma forte è un palma mai maturo è un palma cinico è un palma che ha capito di essere la scuola più forte della CDP e ora bisogna trottare ancora per altri quattro mesi perché capo la finisce a maggio ancora gennaio febbraio marcia aprile e poi possiamo finalmente dire con la parola che ancora non lo diciamo per scaramanzia perché ancora sei punti non è che ne abbiamo 15 dalla terza ma ne abbiamo solo sei perché il Como purtroppo ha vinto a Cosenza grande palma che dire Mann e Bernabè giocatori di alta categoria giocatori che ti posso risolvere la partita in qualsiasi minuto ma soprattutto rispetto all'anno scorso c'è la consapevolezza che questa squadra ha finalmente trovato una maturità l'anno scorso la qualità ce l'aveva ma le facevano solo vedere con le squadre di alto rango quest'anno li fa vedere quasi con tutte le sconfitte sono casuali che quella con l'ecco è avvenuta grazie all'arbitro Paeletto quella con Venezia è avvenuta perché il Venezia era una squadra in casa uno scontro di letto ci può stare che l'hai perso le partite che hai pareggiato per casa casa unità perché vedo con Cosenza con Modena tanti errori arbitrali con San Peregiana sei stato anche sfortunato perché meritavi di vincere però con quelle partite che l'anno scorso avresti perso invece dai pareggiati vamos